E' la fine della gara. Bisogna riconoscere una cosa, gli avversari sono stati nettamente più forti oggi, soprattutto davanti. Hanno veramente faticato nel riuscire a contrastarli. Che partita si è giocata oggi Luca? Non sono riusciti a cambiare l'inerzia della partita. Il gol iniziale li ha messi in ginocchio e non sono stati capaci di recuperare. Comunque il risultato è giusto. E' finito il tempo a nostra disposizione. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. E' sempre un piacere lavorare con te Fabio. Grazie. 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 Grazie.